ciao a tutti buongiorno e buon giovedì ma da quanto tempo non ci vediamo da tantissimo ormai da tardi non prendo la videocamera e vloggo un po vabbè perché per lavoro sono stato un po in giro stato fuori un po di tempo a fare un'attività insomma no mi sono un po allontanato purtroppo da voi insomma dei vlog eccetera eccetera oggi è giovedì sono rientrato stamattina ho dovuto prendere anticipatamente le ferie settimana prossima sono in ferie per pasqua ho dovuto anticipare questi due giorni perché abbiamo un problema nel condominio ci sono non so se ele aveva già parlato sono venuti gli operai devono aggiustare una tubatura e purtroppo devono scavare in giardino hanno fatto un buco quindi ele mi ha chiesto ovviamente se potevo venire io e sono venuto stamattina infatti gli operai sono in giardino se sentite i rumori stanno lavorando hanno dovuto più o meno rompere uno spazio di più o meno 50 centimetri quadrati dai quattro mattonelle una cosa del genere vabbè perché una tubatura si è rotta e purtroppo queste cose succedono adesso stanno lavorando io ho preparato il pranzo da quanto tempo non lo facevo per ele sono stato male due giorni perché ho fatto il vaccino fatto il vaccino martedì martedì sì e ieri sono stato con la febbre alta alta parlo di 38 alto 38 e 7 38 8 oggi va molto meglio stamattina un po' meno in realtà ho preso un'altra taglipiedina ma adesso sembra sia passata del tutto ho solamente un po' il braccio mi fa male ha sempre dovuto al vaccino whisky non puoi andare ci sono gli operai e niente niente volevo salutarvi che era tantissimo fortunatamente riuscirò a stare un po' a casa con ele perché comunque lei ha bisogno non lo dice mai però ha bisogno di di compagnia bisogno di me ha bisogno di aiuto perché perché lei è forte affronta tutto da sola però è una situazione un po' particolare con il papà che comunque ancora non sta molto bene lei comunque incinta è una situazione un po' così lei fa sempre la forte però però ha bisogno di aiuto io mi dispiace vorrei essere molto più presente ma purtroppo il lavoro è proprio un periodo in cui lavoro è diciamo impegnativo e comunque anche casa ha bisogno di anche diciamo ele insomma casa è un periodo un po' particolare quindi un po' così lo sto ancora con questa situazione ancora insomma va io sono sempre fiducioso spero sempre che tutto vada nel verso giusto e tutto si risolva io so che sarà così però però la situazione è complicata e niente però ce la faremo ce la faremo non vedo l'ora di fare il gender reveal così possiamo dire a tutti il sesso e non mi nascondo che già sto cominciando a comprare delle cosine insieme a ele insomma questa sarà lei che mi dice sta rientrando non vedo l'ora di farlo spero di insomma di che la situazione si si stima che ci sia un po' di serenità che ci vuole e voi come va tutto bene devo ringraziarvi perché ci tengo a dirvelo oltre a oltre a essere molto vicini vicini tutti voi ad ele lo siete anche con me mi arrivano sempre dei vostri messaggi magari quando dopo un po non mi vedete insomma no mi chiedete come sto mi fa piacere mi fa tanto piacere scusate molte volte rispondo ritardo cerco sempre rispondo da tutti molte volte succedevo faccio ritardo per caso di lavoro eccetera oppure quando mi chiedete di consigli su delle cose cerco sempre di rispondervi scusate se lo faccio ritardo questo è vero comunque mi fa tanto piacere vedere sentire il vostro affetto sia nei confronti ma soprattutto in quelli di ele che come dicevo prima ne ha bisogno adesso sto preparando il pranzo li sta arrivando quindi riaccendo l'acqua perché li mangia la pasta integrale oggi e niente quindi ci vediamo quelli tra poco allora ragazzi guardate il volto della mia felicità e proprio potti che è sempre gentile persino con le persone che stanno rifacendo le fogne che si distruggono ecco si distruggono il giardino e neanche volevano rimetterlo a posto quindi sa così lui invece con la sua calma il suo suo sauer fair gli ha convinti a rimetterlo a posto cioè cosa che dovrebbero fare perché sono cose condominali però va bene comunque lui riesce sempre a ottenere tutto con vuole quello che vuole con calma io stesso calma non tengo niente comunque a parte questo guardate il pranzetto buono che ha preparato zotti zottarello la mia pasta preferita che passa col pomodoro e basilico e credo ci sia il basilico e parmigiano 6 kg invece sui fagioli con le melanzane col pomodoro buon appetito allora le magiche avventure di proprio potti si sono sviluppate andando alla kuwait finalmente farmi usare il buono benzina anche perché ormai stavo in riserva infatti alla fine quei 10 euro praticamente hanno coperto la riserva vero amore tra l'altro claudio la posso raccontare la tua avventura si era entrato nel raccordo per andare a porta di roma giusto non so perché c'è avuto un lapsus freudiano non è vero gli piacerebbe freudiano è ritornato indietro pensando che aveva sbagliato quindi ha preso è uscito alla prima uscita del raccordo e l'ha preso nell'altro senso perché il raccordo gira intorno a roma da un lato all'altro vabbè alla fine era giusto quindi poi niente ha girato a caso è dovuto riuscire sul serio e rientrare come i pazzi in pratica vabbè a parte tutto questo stiamo andando a porta di roma da ikea sì vabbè ci siamo già che dobbiamo vedere la culla che pagherà lui raga perché a me non mi arrivano gli stipendi quindi ma recupererò amore giuro allora stiamo vedendo i divani per la cucina ovviamente sempre le dimensioni che possono stare bene questo è nuovo in realtà è una novità ikea molto figa tra l'altro c'è molto carino io poi sono attratta dalle fedeli dei cuscini raga in tutto sono anche chiaro magari amore no lui è colpito da il fatto che abbia quella pedana per pozzare i piedi che la fai mettere dall'altra parte eh lo so lo so giusto per quello ti piace no perché le misure le coincidono allora siamo tornati da ikea tra l'altro abbiamo visto due linee diverse di culle di cui vi lascio le foto perché ci piacciono tutte e due una è nuova ed è bianca l'unica cosa è che non ha come si chiama con l'accanto quello per cambiarlo diciamo per il cambio il fasciatoio non mi viene mai il nome mentre invece l'altra linea molto più sofisticata molto più bella però c'è solamente in due versioni ossia verde acqua che è praticamente maschile e rosa che è praticamente femminile ho visto che negli altri stati l'hanno fatta ovviamente bianca che ha più senso e costa leggermente di più di quella che abbiamo visto però è sul genere l'unica cosa che quella che ci piaceva a noi bianca che costa un po di meno purtroppo non era disponibile in negozio meglio era disponibile ma non era esposta quindi sinceramente comprare la scatola chiusa senza che neanche la vedo no perché già quell'altra almeno c'è pure la linea del fasciatoio che secondo me è un po inutilino però è comunque bella cioè se tu metti su una parete tutta quella linea è comunque figa invece con l'altro non avendo il fasciatoio non vedo neanche la culla ovviamente non l'abbiamo presa che poi un lettino con sponde perché all'inizio fa da culla poi quando cresce il bambino può fungere anche da lettino e niente dopo di questo siamo andati a fare una passeggiata a via di cola di rienzo insomma che hanno aperto la nuova s lunga e in realtà lui non c'era mai stato quindi volevo un po fargli vedere quella zona però in realtà s lunga è proprio un buco se così si può dire è tutto ordinato però insomma io sinceramente c'è c'ho l' s lunga a vicino preferisco enorme preferisco molto di più è stato un po un flop ecco volevo approfittare per prendere le uova di pasqua a valerio e magari un pensierino a edoardo ma abbiamo rinunciato perché c'ha due uova in croce e basta devo prendere anche l'uovo a zottis praticamente andremo a comprarci a scambiarci l'uovo insieme ma chi se ne frega e niente volevo farvi vedere un arrivo che mi è arrivato non arrivo che mi sapevo quello diceva e sono le extreme vinil di mesauda sono praticamente dei rossetti liquidi effetto vinile quelli tipo simile all'oreal che io ho comprato che avete visto nell'ultimo video makeup all perché sono praticamente dei rossetti che hanno una base appunto tipo rossetto liquido però con un effetto lucido e una volta che va via comunque l'effetto lucido rimane sotto il rossetto liquido sono davvero bellissimi danno questo effetto glossy ma essendo dei rossetti liquidi rimangono e poi danno immediatamente più volume e riempimento adesso ve ne sguoccio uno con l'aiuto di proprio poti alla fine proprio poti lo sfruttiamo per bene allora abbiamo il 302 che è questo vedete quanto è lucido poi abbiamo il 303 che è leggermente un nude più marroncino e poi infine abbiamo questo che è il 304 che è il nude un po più se vogliamo che vira al come si può dire rosso no sì un po più sul rosso c'è anche il rose tan vi voglio far vedere la scrivenza alla prima passata perché sono colori pieni non sono appunto tipo i gloss che sono poco pigmentati e poi se li andate appunto a tamponare immaginando che c'è la mascherina vedete che rimane la base quindi chiaramente questo non era asciutto però vi faccio vedere quelli asciutti rimane tutta la base e quindi in pratica rimangono le labbra tinte però appunto non hanno più quell'effetto vinile ma non sono come dei gloss che invece le labbra non si tingono quindi sono molto belli questa è la una delle uscite uno dei prodotti che andrà più di moda quest'anno è appunto i rossetti vinile quindi se volete provarli io vi ricordo che ho un codice sconto che vi lascio in tutti gli infobox non è affiliato non si prende percentuale però mesauto è un ottimo brand italiano che merita tantissimo e ora proprio fatto mi fa vedere la cena che ho preparato allora per Rele stasera abbiamo una frittatina in cui ci abbiamo messo un po' di cipolla e qualche cubettino di prosciutto cotto con un'insalata sempre con un prosciutto cotto olive nere e un po' anche di cipolla perché a me piace tanto mentre io andrò con una bella fettina di scottona e la medesima insalata e poi ci vediamo una serie una puntata di viking e poi volevo dirvi a tutti il sesso del bambino senza fare il gender reveal perché è un po' palloso lo so che lo stanno aspettando tutti non è vero sta mentendo no era il pesce d'aprile allora alla fine ho deciso mi sono scordata di mostrarveli di mettere questi qua vicino ai fornelli così sono tutti belli in vista e mi piacciono tantissimo quello per il lavandino l'ha messo qui ed appunto rosa ed infine ho lavato tutti questi così potremo andarci a mettere le spezie ma le dobbiamo tutte comprare e compreremo quelle sfuse sia perché così sono anche più buone tra l'altro poi sicuramente nel lungo periodo si risparmia molto comunque ieri da Tiger siamo passati al volo abbiamo preso solo questa cosa che serve tipo per scolpire come se fosse un fossile trovare le ossa di dinosauro tipo per Valerio tra l'altro costa 3 euro c'era anche quello grande però vediamo un attimo se ha portato e se soprattutto gli piace poi al massimo lo prendiamo e questi sarebbero i dinosauri che ci sono noi abbiamo preso questo basta volevo dirvelo così magari anche per i vostri bambini troppo corti che stai guardando devo capire ora ci trova lui buongiorno a tutti e buon venerdì come state? io sto molto meglio perché avevo detto che ho avuto un po' di febbre dopo il vaccino ma adesso mi sono preso alla grande tanto è vero che stamattina sono andato a fare anche una corsetta quindi Ele è andata a lavoro io ho fatto una corsetta sono tornato a casa ho fatto una doccia sono andato a lavare la macchina di Ele che era da tantissimo che non gliela lavavo e aveva bisogno di un bel lavaggio scusate non mi sono portato con me la videocamera quindi non ho potuto farvi vedere ma adesso sta nuova nuova pulita sembra uscita dalla concessionaria bene adesso sono a casa è quasi manca sì sono mezzogiorno quindi devo cucinare oggi abbiamo pesce però voglio cercare di fare una ricetta sempre molto light però che non sia il solito pesce fatto col pomodorino in padella infatti farò delle polpettine di merluzzo veramente non hanno niente quindi poi vanno fatte nel forno ve le faccio vedere molto molto light ma per mangiare il pesce in una maniera un po' diciamo diversa se no dopo un po' scoccia sempre il solito pesce fatto col pomodorino e le olive in padella e poi farò delle zucchine grigliate per accompagnarlo quindi adesso subito mi lavo le mani e mi metto all'opera allora fare queste polpettine è veramente semplice ho spezzettato il merluzzo che ho fatto un po' scongelare nel microonde e 400 grammi spezzettato andrò adesso a spezzettare anche 60 grammi di mollica di pane io sto usando questo di segale perché è morbido e fresco se avete del pane che è del giorno prima che è un po' più duro mettetelo un po' a bagno leggermente no? quindi spezzettate il pane un uovo poi andremo a mettere un po' di parmigiano io vado a occhio la ricetta ne vuole 50 grammi poi andremo a mettere un pizzico di aglio in polvere oppure se volete mettete un po' di aglio tritato fresco io ci vado ad aggiungere un po' di noce moscata un pizzico di sale e ovviamente perché non basta mai ci andiamo a mettere un po' di pepe una volta fatto questo impasto prima li diamo giusto al volo una valgamata e adesso lo andiamo a mettere nel mixer dovrebbe uscire un impasto del genere raccogliamo via tutto perché non si butta via niente adesso mi tocca fare una cosa che io non amo molto vedere ne sa qualcosa è fare delle polpettine quindi prenderò l'impasto farò proprio una polpettina io le faccio piccoline così cuociono meglio nel forno non rischio che rimanga crudo all'interno fatta questa polpettina io sto usando della farina integrale la vado un attimino a infarinare questa perché così gli do un po' la doratura e vado avanti con tutte cercando di fare una cosa che a me mi viene difficile cioè farle tutte della stessa misura eccole qua ci siamo queste sono le mie polpettine di merluzzo che sinceramente vi dico tutta andrebbero fritte però anche nel forno verranno sicuramente bene adesso le metto nel forno a 180 gradi fino a quando non dora per bene bella dorata, bella croccante incrociamo le dita speriamo che venga bene come contorno ho optato per un'insalata di zucchine che in realtà può essere mangiata anche cruda ma io ho preferito cuocerle anche se l'ho lavata benissimo ma meglio che la cuocio visto che comunque le verdure crude è meglio che le evitare le può mangiare a meno che non siano lavate in maniera eccezionale io le ho lavata benissimo col bicarbonato però non mi sono fidato tanto quindi le ho passate nel forno le ho fatte cuocere un po' adesso farò questi altri guardate poi andrò a condire un po' di olio e le metterò diciamo quasi a bagno le condisco in modo da che si assoprono un po' e le accompagniamo con il pesce praticamente in un po' d'olio guardate vado a mettere un pizzico di sale vado a rimettere un po' di aglio in polvere e vado a mettere anche un po' di pepe mischio e ci condisco le zucchine allora ragazzi sono appena tornata e c'è il mio zottino che sta cucinando vi hai fatto vedere già cosa hai fatto vero? ecco immaginavo perché sta diventando davvero bravissimo sei promosso e in tutto so io non vedo l'ora di mangiare mi ha fatto il pesce in una maniera molto faiga che sono le polpettine quindi sono curiosa di assaggiarle comunque amore ti volevo dire che nel mese di marzo ho comprato zero prodotti di make up come mai? non sei fiero di me? eh sì non capisco perché eh perché sono stata brava a gennaio ne ho comprati tre a febbraio non mi ricordo però sono stata brava no? e ho comprato invece 12 prodotti beauty però ho contato anche il bagno schiuma che erano sei quindi togliendo il bagno schiuma non so se stava ma per me tu compri quello che vuoi? no però per me è un grande traguardo non aver mai comprato neanche un prodotto neanche una matita capisci? quindi dobbiamo festeggiare ogni scusa è buona per festeggiare allora le zucchine sono veramente buonissime ma anche le polpette sono un po' sarane particolari come sapore però non beh pesce eh però sì sono buone non ti aspetti no? perché vedi la polpetta esatto esatto quindi ci fai un attimo il sapore poi capisci che pesce però è merluzzo e dici buona buon appetito ciao a tutti abbiamo mangiato ho preso un caffè avete visto il pranzetto di oggi ci è piaciuto molto adesso stiamo uscendo mamma che sole che c'è comunque quelle polpette sono la vita con il limone beh provatele tanto vi ho fatto vedere tutti i passaggi è un modo diverso per mangiare il merluzzo per non farlo in una solita maniera ed era veramente buono consiglio che ha detto Ele ovviamente è di metterci una due o tre gocce di limone sopra sono meravigliose con le zucchine poi perfette stiamo andando adesso da Ikea in Agnina a vedere se troviamo la culla per baby birba sì la culla vogliamo vedere i fasciatoi per vedere un attimo se sono in esposizione e speriamo di riprenderveli almeno oggi se sono in esposizione perché mancavano a Ikea a Porta di Roma e poi dobbiamo prenderci il mobile per la camera sì poi come si chiama il comò ci si è rotto in realtà era sempre made in Ikea vabbè sono tanti anni poi io l'ho riempito i cassetti si sono un po' bastati si sono un po' sfaldati quindi niente lo dobbiamo cambiare quindi stiamo andando a vedere anche quello che già sappiamo in realtà ci sono due modelli che ci piacciono ci sono due modelli che ci piacciono dobbiamo un attimo capire le misure e quale ci convince comunque è bello guidare una macchina tutta bella pulita sembra uscita dal concessionario vabbè te l'ho detto oggi ho lavato la macchina lo sapete tutto ciò una grande news è che Zotti è finalmente vaccinato Pfizer noi abbiamo anche molti parenti che lavorano in ospedale hanno detto che può andarci anche il gusto come sintomo che non senti anche la febbre è una come si dice un sintomo del vaccino una conseguenza non sento quel vaccino vabbè però oggi già da ieri andava meglio oggi sto proprio oggi sono andata a correre quindi sono sta meglio sono in forma sì sto bene e niente adesso andiamo a vedere quest'Ikea fa un caldo sto sudando in tutto so io voglio le carte attaccate alla parete guarda che fighe che sono ah perché è quell'ora del tè ma lo capisco poi qui ci sono tutte cose rosse allora eccoci nel reparto di piccoli io voglio sia questo sia le nuvolette sia te chiaramente sia quella poltrona ma questo sì però non è questa no quello sì però c'è il fasciatoio e il mobile che però non prenderemo oh finalmente l'abbiamo trovata vero Zottino qui ce l'hanno esposta ora dobbiamo solo capire se ci piace comunque costa 179 euro allora ragazzi questa è la nuova frontiera è dopo aver vuotato il conto al povero Zotti che ha comprato il mobile mi deve anche trasportare perché io sto veramente sentendomi male ma la cosa bellissima è il cassiere ma vieni qui tu è la precedenza io no e lui come no io no vabbè scusami no stavate no non si apre la testa quindi alla fine ci hanno fatto passare avanti perché io sto in condizioni pietose cioè in realtà ce ne hanno diritto tutti però ma tu hai ragione questa è la scena allora se mi sbatte addosso un palo è la nuova frontiera porturisco qua oggi grazie